È un progetto molto importante che attraverso una partnership pubblico e privata e soprattutto di rete interistituzionale perché Teramo è capofila di 5 comuni più tutta una rete di istituzioni, soggetti che daranno una forza ad un progetto che favorirà, appunto è questa l'attuazione concreta, proprio l'orientamento, lo scambio e la nascita di imprese sul territorio guardando soprattutto ovviamente ai giovani, il rapporto è proprio tra impresa e giovani puntando nello specifico su quello che è un settore su cui dobbiamo investire più di ogni altro, ovvero il settore turistico-culturale ecco perché la valorizzazione del territorio che passa attraverso anche una scelta, i comuni partnership lo dimostrano che è quella di valorizzare l'imprenditoria giovanile, in particolare culturale e turistica nelle aree interne quindi porta con sé quest'ulteriore elemento di valore che ANCI sta promuovendo e spingendo molto a livello nazionale la politica delle aree interne legata proprio alla crescita del territorio, valorizzazione del patrimonio, cultura e impresa lo spopolamento in particolare dei territori più piccoli ma anche delle città medie, delle aree interne richiede assolutamente un'azione che porta ad un'inversione di tendenza netta scelte politiche radicali, istituzionali radicali, non basta solo esclusivamente prevedere delle risorse a disposizione ma occorre costruire servizi, rafforzare i presidi ecco perché questa iniziativa va proprio in questo senso, cioè favorire l'imprenditoria giovanile, turistico-culturale nei territori delle aree interne vuole dare una risposta anche in questo senso è chiaro che non basta perché questo vuole essere un progetto che si allarga poi anche a tutti gli altri istituti e le istituzioni del territorio, penso in particolare alle istituzioni bancarie viviamo una fase di desertificazione bancaria molto preoccupante soprattutto sulle aree interne i servizi postali e altre attività di prossimità che sono fondamentali per la tenuta e la crescita di un territorio